Marco Trabucco. Siamo sulla sanità, continuiamo a parlare di sanità. Altre quattro regioni, faccio quattro regioni come esempio, Toscana, Emilia, Lombardia e Veneto, che hanno maggioranze stabili, sono riuscite a riorganizzare la loro sanità. In Piemonte ci si prova da 15 anni, centro-destra e centro-sinistra, e non ci si è mai riusciti davvero perché qualsiasi tipo di riforma è stato bloccato. Come mai e come se ne esce? E nonostante quello che lei dice che è assolutamente vero, la sanità piemontese nelle classifiche del Ministero della Sanità non è malmessa perché viene subito dopo alla pari più o meno con la Lombardia, anzi un po' meglio della Lombardia. Quindi vuol dire che ci sono delle potenzialità enormi. La prima risposta l'ha già data lei perché è quella di dare stabilità. È chiaro che se si cambiano tre assessori, dirigenti, eccetera, negli anni di pochi anni, chi opera nel settore non può avere quegli riferimenti e quelle certezze che sono necessarie. Secondo, bisogna tornare a fare un po' di programmazione. Dico un po' perché non voglio alludere ai libri programmatori che quando finivano erano già cambiate le premesse, ma dare delle indicazioni sia sugli assetti della rete ospedaliera, sia sul rapporto fra questo e il territorio, sia sul rapporto fra questo e l'assistenza, perché questi sono tutti i temi, sia anche sulla distribuzione delle tecnologie principali all'interno dei presidi ospedalieri. Non tutto si può fare ovunque e le operazioni complesse si possono fare soltanto in alcuni presidi in Piemonte. Come non lasciare scoperto il territorio ma con dei presidi che non siano degli sprechi? Quando viene annunciato da Gianluca Bonanno la rianimazione in un ospedale come Borgosesi e sganciato da altre funzioni essenziali per garantire operazioni complesse, si fa un'operazione elettoralistica ma non si fa un'operazione che fa il bene della sanità. Queste sono alcune delle cose, riordinare la gestione, ci sono più di 800 sistemi informativi che non dialogano fra di loro. Ecco, questi sono alcuni esempi di come bisogna mettere le mani, a cominciare dal fatto che noi abbiamo professionisti di eccellenza nel sistema sanitario, sia come medici, sia come infermieri e sia come direttori amministrativi. Credo che occorra costruire una rete di manager, riutilizzando anche coloro che già sono impegnati, che siano totalmente svincolati da qualsiasi appartenenza, non dico tanto e soltanto politico-partitica, ma anche lobbistica, sindacale, perché questo essere uomini e donne liberi e rispondere soltanto alla responsabilità di chi deve gestire un'azienda da 10 miliardi di euro. Questa è la premessa di qualsiasi operazione per gestire bene e per programmare bene.